Anna Tatangelo voleva un altro figlio e il matrimonio ma Gigi D'Alessio l'ha lasciata andare via, foto, l'intervista di Anna Tatangelo, foto, a Vanity Fair. Emoziona dalla prima all'ultima parola, parla di Gigi D'Alessio e per la prima volta salta fuori il contrario di ciò che tutti credevano. Anna Tatangelo da sempre ha subito in silenzio le critiche di chi le dava ingiustamente della spascia famiglie e poi l'accusava di avere lasciato D'Alessio per mille motivi falsi. La cantante per la prima volta racconta tutto e confida che lei sognava il matrimonio con Gigi, per lei era importante avere un altro figlio, ma è evidente che per lui non fosse lo stesso. Il matrimonio non è arrivato nonostante il divorzio, se lo aspettavano tutti, lo voleva lei e lo vorrebbe ancora. E, una donna meravigliosa che con... E, una donna meravigliosa che con... E, una donna meravigliosa che con...